Ciao a tutti i miei legionari e barbarozzi non iscritti, io sono Alessio PCM e vi do il benvenuto e il bentornato su CK3 con Ray Gutmund d'Inghilterra. Come al solito invito i barbarozzi non iscritti a iscriversi e tutti voi a lasciare qua sotto un bel mi piace e a condividere la campagna con amici. Attivate la campanella per non perdervi i successivi video e controllate la schermata della community per novità e sondaggi. Ultima cosa ho pubblicato due racconti che trovate gratis in descrizione. E ora senza ulteriori indugi partiamo e siamo in una situazione abbastanza ostica, nel senso non scoppierà più la guerra civile fortunatamente ma noi abbiamo bisogno di riprenderci. È nato il nostro nipote bastardo sfortunatamente, cioè bastardo non perché è cattivo ma di fatto. E no, è una lei. Ah ho letto male, ho letto grandson, si chiamerà Sara. Va bene che tu cresca forte e sana in una prigione, povera piccolina. Tra l'altro vi stavo dicendo proprio nello scorso episodio che ho scoperto una cosa sul regno di Galizia, ovvero che è elettivo, scusate, delle Asturie, delle Asturie volevo dire, e nostra figlia non è quella che vincerà probabilmente, cioè probabilmente secondo i voti che hanno ottenuto ad ora. Quello con più voti è questo principe Paio Vtizzes, il nostro brother-in-law, brother-in-law perché ha scusato la nostra sister-in-law. Oh, non so bene in che modo siamo impenetati, comunque questo ragazzo qua non posso farlo fuori. Oh oh, eh ciò è molto male, potremmo perdere le Asturie così e vabbè, non sono mai stato il nostro scopo però mi spiacerebbe. Vabbè, non importa. Allora ragazzi, qualcuno sta flottando contro di noi, il nostro alleato ci chiama in guerra e tra l'altro sto cercando uno sposo per nostra figlia e ho visto che tra le grosse casate qua non ce n'è nessuno che ci permetterebbe di creare un'alleanza, quindi probabilmente vado a prendere Sexred che non ha dei tratti così malvagi, diciamo, ed è un ottimo burocrate e questo direi che ci aiuterà. Anche se Children born of this marriage will be low born, no, perché il matrimonio lo faccio matrilineale, anche se faccio perdere un po' di prestigio alla mia povera figliuola, direi che è l'unico modo in cui possiamo procedere e diserediamo la ragazza qui consumando un po' di punti di dinastia e il resto, ok? E questo vuol dire che adesso lei erediterà tutto, ottimo. E fatemi vedere una cosa, siamo ancora in debito e non possiamo vederlo, poi andremo a vedere se effettivamente possiamo prestare la sua claim sul Regno d'Alba. Tra l'altro ho deciso di fare il buono e di liberare la figlia di nostra figlia. Lei, non lo so, sono molto deluso, ragazza mia, sono molto molto deluso. Facciamo così, vi faccio uscire, ma prendi i voti e voilà. Allora, cos'è successo? Ah, è andata l'integrazione del titolo di Yure, quindi cosa succede? Change the Yure Drift Progress towards Kingdom of England. England. Ah, lo fa entrare nello De Yure del Regno d'Inghilterra. Ora ho capito. Oppure queste cose hanno bisogno di tempo? Fatemi vedere i diversi malus. livelli di sviluppo. Ah, ok, così ci mettiamo più tempo, ma aumentiamo il development. Se no, così rimane tutto invariato, così il livello di development diminuisce. No, no, facciamo che non cambiare nient'altro. Ciao Ailswift. Aha, qualcuno vuole rivendicare il mio trono e lui è un agente. Questo è interessante. Naturalmente lo arrestiamo. Lo arrestiamo e che faccio? Lo faccio uscire per dei soldi? Ma sì, ma sì. Tra l'altro non siamo endorsed dall'arcivescovo, giusto? E direi che uno sway nei suoi confronti non è per nulla una brutta idea e continuiamo ad aumentare il controllo anche nei nostri territori. Nel Dorset. Va bene. Siamo quasi in positivo e Dark Insight. No, facciamo Driving in Chaos anche se non siamo ancora stressati. Ok, ora siamo finalmente in positivo e fatemi vedere sta cosa. De Yure. Sì. No. No, perché? Perché non posso pressarla? Scusa? Perché non me la fai pressare? Ragazzi, abbiamo ribeccato la duchessa Bjornfeld che ritrammava contro di noi. Ho dato ordine di arrestarla, ma non ha funzionato ed è iniziata una guerra contro la nostra tirannia, per cui parteciperebbero 7000 uomini. C'è una cifra allucinante. Tra l'altro uno di voi mi ha chiesto, ma perché non raduni le truppe in più punti? Perché sbaglio. Molto semplicemente. Non mi sono ancora abituato a questa cosa che puoi radunare le truppe in più territori e quindi le raduno semplicemente in una. Adesso lo faccio, gli do ordine di farne di più. Ok, si radunano in questi tre territori e le tiriamo su. Ok. Un po' più lontane l'una dall'altra da quanto mi aspettavo. Tra l'altro ho guardato un po' anche come siamo messi con la creazione dell'impero britannico e qua ragazzi non ce la si fa perché siamo a 60 su 73 e dovrei fare tantissime guerre lunghe. La claim di nostro figlio ho capito perché non la possiamo pressare. Per il fatto è una cosa che c'era anche su CK3. Non mi ricordo se l'ho detto nello scorso video che le claim non pressate, nel caso in cui siano di donne e i titoli passino principalmente per uomini, in questo caso il sovrano del regno deve essere un bambino o un'altra donna. E nel caso del regno d'alba non è possibile perché è un regno tribale elettivo in cui vengono sempre eletti degli adulti, quindi sono gli unici elegibili e quindi non abbiamo alcuna possibilità. Dovremmo continuare a fare guerrecciole su guerrecciole, un territorio alla volta e prendere l'alba. Cioè alba e questi territori che ci mancano e non so se ne ho la forza. Adesso nei commenti vi lascio, vi lascerò giù le due opzioni. Mettete mi piace sul continua, non continuarla e così almeno se non la continuiamo anche la vostra approvazione. Comunque quelli che stanno seguendo questa campagna sono diventati molto pochi e per un modo di acera non è che non è bella, però se siete così pochi a seguirla sinceramente preferisco dedicarmi a altro. Ad ogni modo gustiamoci questo ultimo episodio e andiamo a sfracciullare, sfracciullare, sfracellare, sfracellare volevo dire i ribelli. Tra l'altro non so se hai notato un cambiamento nel tono della mia voce. Ho cambiato le impostazioni perché non ho registrato i primi tre minuti di video, che in realtà avevo registrato dieci o quindici, ma nel montaggio ce ne sono solo tre. E poi ho cambiato le impostazioni nel microfono perché mi sono messo a smanettare ed eccoci qua. Tra l'altro sono in guerra anche contro un'independence war, il difensore è questo qua di Gardariki. Ah davvero? Se mi sono unito non me lo ricordavo, ad ogni modo splittiamo il nostro esercito e andiamo a prendere la ragazza qua, mentre metà dell'esercito lo lascio qua a nord. Tra l'altro non mi sembra che si sia unito nessuno in questa guerra contro la nostra tirannia. Quindi buono così. Ah, probabilmente prima quando ho visto il numero di truppe era il nostro numero di truppe. Ok, questo spiega tante cose. Perfetto, e in tutto questo abbiamo anche scoperto che che nostra moglie, la regina Costanza, ci tradisce. Eh no, non ti perdono, non sono così incline al perdono, la imprigioniamo. Uno. E cara la mia ragazza, il perdono non è garantito. Siamo anche crudeli. Guadagnerei stress perché sono generoso, perdo pietà, siamo già messi male. Eh no, allora facciamo che la faccio fuori e basta. Et voilà. Siamo single. Oibo, oibo. Tra parentesi non siamo solamente single ma siamo anche... Tra parentesi non siamo solo single ma siamo anche poveri. Lempiamo tutte. E questa guerra non doveva scoppiare. Dovevamo rimanere un po' tranquilli per rimettere in sesto le nostre finanze, ma non è stato possibile, sfortunatamente. Perfetto, la nostra sorellastra, cognata, ecco, si sta nell'uo, ecco cos'era. Si è incazzata perché non abbiamo mandato truppe e potrei mandargli dell'oro o promettere che gli manderò le truppe, ma mentirei. Quindi perdiamo semplicemente un po' di prestigio e al diavolo l'alleanza che abbiamo con lei. No, che barba, che barba. Un emiro mi ha dichiarato a guerra. Eh, ok. Ha 2600 uomini, quindi io non so perché mi ha dichiarato a guerra. Sta di fatto che non ho un soldo. Vabbè, vediamo di finire questa guerra contro la nostra ribelle, poi andiamo giù a distruggerlo, anche se sarò in negativo davvero di tanto. Eh, no, ha degli alleati. Cosa vuoi come territorio? L'emirato di Leon. Che sarebbe? Ah, essenzialmente per questo territorio. Pigliatelo. Vieni. Tanti auguri. Cioè, questi territori in Spagna mi stanno portando più più manfrine che altro. E considerando che tanto il titolo di regno nostra figlia non lo erediterà perché è elettivo al diavolo. Cioè, adesso naturalmente starà vincendo l'elezione. Sì, ci scommetto quello che volete. No, non la sta vincendo, quindi ok. Ma probabilmente più territori perdiamo e più è facile che lei lo vinca. La vinca l'elezione. È un classico. Ok, perfetto. Abbiamo vinto la guerra contro la nostra vassalla, la duchessa, e riusciamo anche a imprigionarla. Ottimo. Il territorio non glielo prendo. Disbandiamo l'esercito, che direi che è il caso. Ah già, magari non era quello, ma questo. L'ho semplicemente spezzato in 80.000 pezzi. Tra l'altro ci sono di saccheggiatori norvegesi qua. No, danesi. Speriamo che se ne vadano. Vediamo un po'. Vabbè, facciamo che li vada a intercettare e poi l'esercito lo tiro giù. Blocchiamo tra l'altro un nuovo perk. E cosa facciamo? Facciamo Dark Insight. Sì, perché malimplicito non era per niente male come bonus. Ok, perfetto. Così. Tra l'altro vi volevo far notare che è cambiata per l'appunto la cosa delle Deiure. È un po' più rapida e se andiamo a vedere i titoli di regno hanno assorbito, mi sembra, tre conte all'interno del regno di Albo. Un po' come noi stiamo facendo con questo territorio del Galles tramite il nostro cancelliera. E ok, cioè, figa come cosa. È un peccato per noi perché abbiamo perso tre claim che sarebbero state di lì. Però considerando che non abbiamo un soldo al momento non ce ne preoccupiamo troppo. Ah, tra l'altro ho deciso di alzare nuovamente la nostra autorità di sovrano. Speriamo così di ottenere un po' più di soldi e anche un po' più di truppe dai nostri vassalli. Ci sono dei guai al torneo. Il nostro rivale e vassallo Reeve Edmund è lì. Ok, si sta lamentando e bla bla bla. Mentre la nostra amica, la Contessa Margherida, si siede sotto il padiglione e naturalmente annoiata a morte. Cosa possiamo fare? Possiamo cadere lui nel fango per ravvivare un po' il morale di tutti? Sì, ok. Mi sembra un'ottima idea. Ah, perfetto. Lo stesso che abbiamo buttato nel fango è morto, ucciso da Iliana. Mamma mia, drastici. Sì, va bene che non ci stava simpatico, però l'hanno fatto fuori senza pietà. Va bene, ok. Ok, la nostra cultura ha scoperto City Planning che immagino ci permetterebbe di costruire qualcosa. Sì, infatti, evento. Stiamo continuando a sperimentare la nostra dispensa alchimica, avvelenando un po' di gente a caso. Abbastanza crudele e folle da palle nostra. Che lapsus da parte nostra, però. Sono cose che succedono nel medioevo, quando uno si diverte con tutte quelle ampolle colorate. Perfetto, una delle nostre figlie si è fatta l'arcivescovo. Ottimo, ottimo. Gli arcivescovi a quanto pare hanno un faccino proibito. E che facciamo? La imprigioniamo? L'ha già imprigionata in automatico. Facciamo che avrò pietà. Ottengo un wick hook e esce dalla prigione. Ah, comunque, ragazzi, è due. È di nuovo incinta lei, eh. È il secondo figlio che fa con l'arcivescovo. Porca di una miseria. La roba da matti. Ah, tra parentesi, sto cercando di fare una cosa, anche se non penso che avrà molto successo. Ovvero, succede sempre qualcosa. Che me non può andare non punito, accusato di passarlo con Teodilo di avere un affare extracognugale con la sua amante Eleri. Gli crediamo o noi gli crediamo? Noi gli crediamo. Anche perché questo qua ci vede abbastanza bene e se faccio così andiamo in positivo. Naturalmente è stato un atto, come dire, peccaminoso il nostro. Quindi abbiamo perso ulteriormente pietà. Ottimo. Dicevo, facciamo che non faccio partire per non rischiare che succedano cose. Sto cercando di sfoltire la linea di successione, in quanto ho visto che comunque tra i candidati ci sono anche delle donne. In quel caso io potrei far varere la claim di nostra figlia. Quindi tanto vale provare. Ah, tra l'altro, cosa molto divertente, nostra sorella ci dice, oh, rivendichi la mia claim dello sheikdom di Corona o io me ne vado. Ciao. Che ti devo dire? Ah, perfetto. Tra l'altro questo territorio è diventato della Baviera e la Baviera è debolissima. Questo è molto interessante e direi che vale la pena capolavoro. Sono anche bogolinisti. Bogumilism. Che cavolo è? Rifiutano tutte le trappole del mondo e le istituzioni del potere e invocano invece per un ritorno ai primi metodi di insegnamento spirituale praticati da Cristo e dai suoi discepoli. Ok. Cosa possiamo fare qua? Perché dovrei far finire il mio scheme? No, no, no. Rimaniamo assolutamente concentrati sullo scheme e decisamente vediamo di riprenderci questo territorio. Ah, naturalmente non posso tramite un holy war perché non ho ben chi minima pietà. Quindi facciamo una guerra normalissima. Tiriamo su i nostri eserciti. Ne basterà semplicemente uno, il più piccolo. Tipo quello là sotto. Ok. Così magari rimango anche in positivo. Vediamo un po'. Yes. Proprio quello che volevo. Bene. È nata un'altra bambina. Figlia di un archivisco. Sembra di essere nei borgia, dannazione. C'è da dire che si danno ben da fare questi ragazzi. Nuovo perk. Prendiamo la retribuzione divina. Ok. È ammazzato da una tarantola. Il grande capo Bytan è morto. Perfetto. Poi vediamo un po'. Al momento abbiamo a quanto pare Haed come possibile erede. No, in realtà la linea di successione ha mutato per un po'. Vediamo se si è aggiornata. Ok, sì. Sembra di essersi aggiornata. Abbiamo qualche ragazza nella successione. Abbiamo lui che è un ragazzino. Abbiamo qualche donna qui, ma in quinta e sesta posizione. Ok. Quindi dobbiamo far fuori anche te, mi stai dicendo. Meno male che mi sono specializzato nell'intrigo. Quanto mi chiedi? 150. Ma sei pazza? 56. Molto più sostenibile. Ok, perfetto. Il territorio qua è caduto, ma sincero non so se vale la pena mandare le nostre truppe qua. Ma sì, dai, facciamolo. Ne hanno pochi in fondo. Le mandiamo dirette alla sua capitale anche se ci metteranno tipo 20 anni. Facciamolo. Tra l'altro l'Italia vedo che ha preso dei territori a nord e non sono riuscito a mandare le nostre truppe a sud. Molto bene. Niente. Se è tanto possibile. Dannazione. La capitale è qua. Allora facciamo che tu vai qua. Nooo, mi han becchiato. Ma... Come l'assassinio di Ray Hyde. Ah, dannazione, ma io non volevo mica uccidere lui. Scusate, ma c'è stata una successione e me la son persa? Vabbè, proviamoci. 34%. Vediamo cosa succede. Questa qua è da 20 anni che dice che non vuole più essere le nostre amiche. Ok. Tra l'altro cosa potremmo fare? Potremmo ricominciare lo scheme. Ma io direi di no. Sinceramente non vorrei rifare uno scheme contro il Ray. Anche perché non so perché me l'ha fatto contro di lui. Eh sì, probabilmente è morto il sovrano di prima e ha ereditato quello. E... problema. Vedo che la successione non si libera. Vabbè. Ancora un video così possiamo provarlo, ma... Penso che i nostri tentativi entrano sfortunatamente a vuoto. Che è quel livello di splendore della nostra dinastia che aumenta direi che ci possiamo ci possiamo fermare. Adesso siamo Reputable. I nostri figli sono nati... cioè, sono nati. Nascono con 400 di prestigio. Sposarsi all'interno della nostra dinastia garantisce più 300 di prestigio e noi possiamo ottenere fino a un più 25 per il... per aver legnato per lungo tempo. Il che non è per niente male. Tra parentesi i nostri vassalli vedo che non ci vedono alla grande, ma abbiamo tanti malus, tra cui quelli dei più potenti molto spesso non hanno un posto nel concilio e noi abbiamo anche troppi Ducati. Beh, decisamente il ragazzo non è... non è popolare. Questo non aiuta particolarmente. Va bene. Ok, io legionario adesso vi saluto. Spero, come al solito, che il video vi sia piaciuto. Penso di far arrivare questa campagna almeno fino al video 24 forse 25. Più che altro perché ragazzi non non voglio sinceramente dover conquistare Alba una con te alla volta. Cioè, diventa sfibrante. Quindi fatemi sapere e al limite al 25 ci fermiamo. Vabbè, tutti i legionari e al prossimo episodio. Grazie a tutti.